Ciao a tutti bimbi e genitori del nido, sono Marta. Oggi volevo proporvi questa attività che si intitola La caccia ai colori. Questa attività è un'attività molto divertente per il bambino che però bisogna saperla fare quando il bambino mostra interesse e sa distinguere alcuni colori. Per cominciare io ho scelto il colore rosso, ma se il bambino distingue un colore verde potete farlo anche col verde. Io ho scelto il rosso e invitiamo quindi il bambino a osservarlo. Un grande foglio rosso, un pennarello rosso, un pezzo di feltro rosso e poi mostriamoli il rosso. Possiamo mostrarglielo con un pennarello, scrivendo, con una tempera, con un pastello, come volete. E lo chiamiamo proprio per nome, rosso. E il pennarello è rosso, rosso. E poi insieme al bambino disponiamo sul tavolo gli oggetti rossi che troviamo per la casa. Per esempio io ho trovato una custodia degli occhiali rossa. Quindi dirò custodia occhiali rossa, rossa. Tutto ciò che trovate nella vostra casa. Ciao bimbi, un abbraccio!